Laboratorio analisi, istruzioni per l'uso. Gli utenti del centro prelievi del poliambulatorio di via Napoleona saranno guidati nel percorso per effettuare le analisi da fumetti e infografiche realizzati da alcuni studenti dell'estitificio di Como e sistemati nel punto prelievi. Pannelli ideati per spiegare in modo semplice e immediato ai pazienti come prendere il ticket e mettersi in fila, ma anche come raccogliere e consegnare i campioni per le analisi o come prepararsi in vista degli esami. Sono disponibili informazioni anche sulla modalità di prenotazione. I pannelli sono stati collocati anche al Sant'Antonio Abate di Cantù. I pannelli, realizzati da Federico Bellotti, Federica Dotti e Samuele Izzo della quinta G1 dell'Isis estitificio Paolo Carcano, sono stati presentati oggi nella struttura di via Napoleona. Gli studenti hanno realizzato fumetti semplici e ironici, il cui obiettivo era la comunicazione di informazioni serie in modo leggero, quasi ludico. I ragazzi hanno lavorato sotto la guida del professore Giuseppe Vigliotti nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Il progetto dei nuovi cartelloni è stato finanziato dalla Cassa Rurale Artigiana di Cantù e sono già a disposizione di tutti gli utenti del centro prelievi, un'iniziativa che potrebbe essere estesa ad altre strutture.